Questa benedetta solitudine, qualcuno dice anche beata solitudine, è la solitudine bella, positiva, di cui diremo qualcosa più in là. Ma oggi vogliamo dire brevemente qual è un'altra motivazione, lo diciamo sempre insieme a Don Luigi e Maria Picoco, che vi è alla base di una società che costruisce solitudini, di una società che impronta tutto non alla ricerca della vita, ma a soddisfare le insoddisfazioni degli uomini e delle donne di oggi. Dicevamo già ieri nel titolo che il nostro mondo è un mondo del fare, siamo tutti pieni di cose da fare, siamo tutti immersi nelle agende stracolme. E quindi quando nella mia giornata io non mi scontro con la solitudine, qui iniziamo ad assaporare la bellezza, il sapore della bellezza, il sapore della positività e della ricchezza della solitudine, quando io nella mia giornata come persona singola, come coppia, come famiglia, non mi do, non dico molto, ma cinque minuti di silenzio, cinque minuti di spazio e di libertà mia interiore per cercare di comprendere dove sto andando, che cosa sto dando alla mia famiglia, che cosa non sto dando anche alla mia famiglia, che cosa non do alla mia comunità, alla comunità che mi è affidata come parroco, come prete, come vescovo, eccetera, se non trovo spazi di solitudini in cui, appunto, liberarmi dal fare e cercare di vivere, ecco l'altra parola, l'essere, tutto questo crea solitudini negative, crea sistemi economici che approfittano delle paure, dell'angoscia dell'uomo e ti inducono a essere sempre più solo, anche e nonostante gli acquisti. Un'economia non affatto solidale, ma un'economia che produce spreco, consumo, infelicità e che produce, appunto, solitudine. Il primo passo per purificarci da questa solitudine negativa del fare, dell'essere continuamente impegnati, è, appunto, tornare all'essere, iniziare a chiederci chi siamo, dove voglio andare, cosa sto facendo. Questo è veramente importante per poter guardare negli occhi la solitudine negativa e vedere il bene che vi è nascosto. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!